Vi presento il lupo, che è un lupo vero, un lupo dei Carpazzi, molto bello. Sono 5 euro a foto. 5 euro a foto, ma il video quanto costa? Il video? Il video quanto costa? Il video sono almeno 15. 15 euro per il video. No, dai, mi offri la vera una volta e siamo a casa. Bellissimo esempio, è il lupo dei Carpazzi, vero? Il lupo dei Carpazzi. Sì, è un lupo, dico di vero. Sì, 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 però non fate mai i video dall'alto. Ecco qua, prima, davanti, vedo che bello. Guarda, davanti. Sì, vai vicino. Però qua mi offri da bere davvero. Sì, troppo da bere davvero. Eccolo qua. Stoppo?